Ah, gli anni 90, anni in cui si metteva una penna Bic dentro un'audio cassetta dei cartoons per riavvolgerla, in cui si tornava a casa dopo la scuola a vedere Solletico, ma soprattutto gli anni in cui spopolarono gli 883. Ben tornati su Nercorda Capitan Trolle, oggi parliamo di un libro che riguarda gli anni 90, ma che riguarda anche gli 883, perché parliamo di Max 90 di Max Pezzali. Visto che è figo, no? Con il lancio, eccetera. Il libro appunto è Max 90, scritto da Max Pezzali, ed è un compendio di cose, abitudini, oggetti presenti negli anni 90 che ci vengono spiegati tramite lo sguardo proprio di Max Pezzali, il re degli anni 90. È figura di riferimento, beh, non solo per tutti coloro che hanno vissuto gli anni 90, ma anche per generazioni successivi, perché il tipo di parole che ha sempre utilizzato in musica Max Pezzali sin dai tempi degli 883 è un qualcosa in cui molti, anche giovanissimi, riescono a rivedersi. E quindi Max Pezzali non passa mai di moda. Oltre al fatto che a Max Pezzali gli si può solo volere bene perché ha cantato Ci sono anch'io nel pianeta del tesoro e chi dimentica è complice, non so complice di cosa, ma complice, ma parliamo del libro che secondo me è già interessante per il suo lato grafico, perché ricorda molto i vecchi diari di scuola degli anni 90 e al suo interno si possono trovare grafiche molto accattivanti, come possiamo vedere qui, non so se si vede, comunque grafiche accattivanti e illustrazioni fatte da niente po' di meno che Roberto Recchioni e non voglio mostrarvi troppo dell'interno del libro perché voglio che voi ve lo gustiate in caso decideste di comprarlo se non l'aveste ancora fatto. Non è un qualcosa di autobiografico, non è la storia e la carriera musicale di Max Pezzali, ma è semplicemente Pezzali che racconta dei piccoli pezzi degli anni 90 attraverso i suoi occhi e lo fa con quello sguardo da fratello un po' più grande che ti batte la mano sulla spalla e ti racconta di come girava il mondo all'epoca. E non c'è spocchia nel fare questo, è semplicemente Max Pezzali che ti racconta dei piccoli frammenti degli anni 90 fondendoli un po' la sua esperienza personale e questo lo rende vero e unico. Bene, io sono nato nel 1991, quindi ho gli anni che ho. Quindi in teoria io in questo libro non potrei trovare robe con cui legare particolarmente perché negli anni 90 ero un bambino per l'appunto. Però lo sguardo che ti dà Pezzali è un qualcosa di più ampio. Almeno per me che ho vissuto la mia infanzia negli anni 90 più che l'adolescenza ci rivedo un pochettino quello che facevano i cugini più grandi che ti raccontavano di come funzionavano le sale giochi o di andare alle feste in mezzo alla campagna e cose che sono descritte tra l'altro da Pezzali in canzoni come Rotta per casa di Dio. E così come le canzoni di Max Pezzali degli 883 sono diventate in qualche modo universali perché quel tipo di sfiga, di malinconia, ce l'abbiamo tutti indipendentemente dall'anno in cui siamo nati lo possiamo ritrovare tutto ciò nel libro Max 90. Perché Max Pezzali è effettivamente quella figura che si può vedere all'interno del video dei Deja Callo sui 30 anni che non so se avete visto. Max Pezzali fa un cameo in quel video e si presenta quasi come figura mistica che ti guida un po' in quella malinconia stanca che ti può prendere alle volte e è quello che faceva nelle canzoni con gli 883 ed è quello che fa oggi con le canzoni ed è quello che fa con il libro Max 90 che quindi diventa universale. E ripeto, il tutto confezionato in un prodotto davvero valido da tenere per le mani anche cioè il tipo di carta su cui è stampato è piacevole al tatto e non lo dico per fare uno di quei discorsi tipo è signora mia ma l'odore della carta. All'interno del libro di Pezzali si può trovare veramente veramente tanto di cui parlare. Ad esempio leggo semplicemente l'indice il Deca, New York, l'uomo ragno, margarita, la maglietta nera versus cellulare, la sala giochi le luci stroboscopiche, l'immaginario erotico, il due di picche, le lettere d'amore, le modelle eccetera eccetera eccetera. E sono tutti dei brevi capitoli che si possono leggere credo anche non in ordine cronologico che ci raccontano dei piccoli pezzi di quelli che erano gli anni 90 senza esagerare senza mistificarli troppo ma utilizzando quel tipo di nostalgia che mi viene da definire sana. E la nostalgia sana non è quella di Stranger Things che oh mio dio guarda qui c'è una citazione pop wow rinnova l'abbonamento Netflix ma è quel tipo di nostalgia che ti fa raccontare le cose per come si ricordano semplicemente. Magari velate da una patina di tristezza ma ricordando le cose belle e brutte semplicemente per come erano. Questo libro non è un monumento agli anni 90 come epoca d'oro e meravigliosa ma è semplicemente un passaggio attraverso varie cose e vari oggetti presenti all'epoca che possiamo sfiorare con la memoria o tramite il racconto di Max Pezzali per poter costruire un pochettino quello che fossero realmente. È un po' come quando nei film c'è qualcuno che entra in una casa vecchia e abbandonata da tempo e si mette a trovare vari oggetti delle persone che ci vivevano prima. Riesce a ricostruire un pochettino chi fossero quelle persone tramite la roba che trova in quella vecchia casa. Poi però se siete come me nel film di solito spuntano fuori fantasmi o uomini con motoseghe però gli anni 90 non erano così. Quindi ragazzi Max 90 acquisto consigliatissimo e anzi secondo me ce l'avete già sul comodino e mi leggete un capitoletto prima di andare a dormire e vorrei ricordarvi che tra l'altro su Twitch quel santuomo di Lorenzo Fantoni insieme a Roberto Recchioni che è quello che ha fatto le illustrazioni del libro oltre che essere curatore di Dilan Dog e tanta altra roba hanno intervistato proprio il sommo Max Pezzali e potete trovare quell'intervista integralmente qui sul canale YouTube di Nercor se vi interessasse. Quindi a me non resta che salutarvi, io sono Capitan Troll, passo e chiudo e ci vediamo a un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!